È una squadra speciale quella per il Tribunale di Chiavari, sarà composta da ogni capogruppo consigliare e un consulente esterno. Chiuso nel 2013, il nuovo governo potrebbe riaprire il Palazzo di Giustizia. Serve un progetto convincente. Il Consiglio Comunale ha dunque approvato il via libera alla Commissione di Scopo. Presidente è Nicola Orecchia che ha chiesto e ottenuto l'unanimità raggiunta la terza votazione. Sul tema, peraltro, Orecchia aveva presentato un'interrogazione. Quali sono gli spazi disponibili nel Tribunale, nel Palazzo, quello nuovo di Corso dei Michi al 79, o se vi sono altri spazi sul territorio. Insomma, era un modo per cominciare già a approfondire, dal punto di vista pratico e operativo, quali potevano essere le premesse per intraprendere questo percorso, che sicuramente non sarà facile, ma molto ambizioso e che il territorio sicuramente merita. Unanimità anche nella scelta del consulente esterno della Commissione. Gabriele Trossarello, il cui nome era stato anticipato nei giorni scorsi, ha ricevuto ampio consenso e l'applauso di tutta l'Aula. Leader del comitato favorevole alla riapertura del Tribunale, conosce storia e contenuti. Questa è una battaglia di tutti per il territorio. Non è una battaglia di parti, io lo dico sempre, nel momento in cui c'è da lavorare, in questo caso anche gratuitamente, lo faccio volentieri. Però deve essere una battaglia condivisa, non voglio divisioni, se no sono pronto a fare un passo di lato. Il progetto dovrà essere completato entro sei mesi. I consiglieri di minoranza sono pronti a dare una mano. L'importanza del Tribunale non è soltanto o non solo un aiuto per la cittadinanza, perché avere un Tribunale sul territorio è sicuramente più agevole, garantisce l'accesso alle persone anche con difficoltà, ma anche dal punto di vista economico. Bisognerà fornire un progetto convincente perché possa in breve tempo essere attuato e quindi senza rischiare poi che si arrivi a fine mandato del Governo e che magari cambino le carte in tavola.